La notizia era trapelata già da qualche giorno e, come annunciato, il PD e il Movimento 5 Stelle hanno presentato al Tribunale Amministrativo Regionale il ricorso che punta ad accertare l'effettiva composizione del Consiglio Comunale di Campobasso. Secondo i ricorrenti, ci sarebbe un errore nei calcoli che non avrebbero tenuto conto dei risultati del ballottaggio. La tesi si basa su alcuni precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato. Se così fosse, il risultato sarebbe ribaltato con 20 seggi alla coalizione progressista che lucrerebbe anche quindi il premio di maggioranza, più il sindaco, 5 al cantiere civico di Pino Rute e soltanto 7 al centrodestra, compreso quello da assegnare al candidato sindaco Aldo De Benedittis, tecnicamente a presentare il ricorso patrocinato dagli avvocati Piero Neri e Roberto Ruta, sono stati nella veste di cittadini elettori il segretario o cittadino del PD Campobasso Giuseppe Delia e il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Federico. Trattandosi di materia elettorale, la vicenda dovrebbe essere affrontata in tempi brevi e se dovesse prevalere la tesi dei progressisti, l'effetto che si avrebbe al comune di Campobasso sarebbe dirompente oltre che comico. Da un'anatra zoppa potenziale, l'ornitologia politica regionale si troverebbe a fare i conti con un'aquila imperiale. Considerando i passaggi già venuti di Varra e Madonna nell'alveo della maggioranza, l'amministrazione forte potrebbe contare su 22 consiglieri progressisti ai quali si aggiungerebbero i 5 del cantiere civico e la stessa sindaca per un totale di 28 elementi. Al centrodestra resterebbero soltanto 5 seggi e un primato alla Dorando Petri che collassò al traguardo della Maratona Olimpica del 1908 a Londra. Non vi sarebbero infatti precedenti analoghi in politica e per un parallelo bisognerebbe ricorrere allo sventurato atleta conterraneo di Ligabue, quello che canta. L'ipotesi tuttavia è ai limiti della fantascienza e vedremo se Delia e Federico, seppure con barba e baffi finti apposti al sembiante politico, avranno ragione e con loro la coalizione progressista.